Sento di dire a tutte le autorità dello Stato, non stiamo vivendo momenti felici, perché la televisione, un po' anche tutta questa avversità nei confronti dello Stato, nei confronti dei politici, nei confronti di chi ha un'autoritas, nei confronti della Chiesa, oggi stiamo togliendo i punti di riferimento, perché spesso la televisione questo vuole, vuole togliere coloro che fanno pensare, coloro che ci fanno ancora sperare. E allora, ecco, sia la Chiesa ma anche voi responsabili dei cittadini, capite questo mandato solo dallo Stato italiano ad Addio, quindi questo mandato, tutelare la giustizia per il bene comune, formare alla pace e soprattutto vivere in moralità.